Hai mai visto l'uomo col cappello? Fai questa domanda a parenti e amici e ti assicuro che almeno uno di loro ti risponderà di sì. Ma chi è? O meglio, cos'è questa strana figura che viene chiamata uomo col cappello? Ciao belli de zio, sono Andrew e anche oggi sono pronto a raccontarvi una storia davvero da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. E oggi, dato che è un giorno speciale, vi parlerò dell'Atman, l'uomo col cappello. È da mesi che mi chiedete di fare questo video, ma ho voluto tenermelo buono in occasione di questo enorme traguardo. Ragazzi, grazie. Grazie a tutti per la fiducia, per la pazienza, per la compagnia e per il supporto. Siete davvero dei grandi e io ancora non riesco a credere che a poco più di un anno dall'apertura del canale siamo già arrivati a 100.000. 100.000 ragazzi, cioè ci rendiamo conto. Grazie ad ognuno di voi per ogni visualizzazione, commento, like, dislike, davvero. E guardate che cosa è arrivato. Il bottone. Oh, il bottone. Il bellissimo bottone. Col mio nome sopra. Per i 100.000 iscritti. Direi che per oggi lo mettiamo qui. Per celebrare questo immenso traguardo che è veramente... Wow, non me l'aspettavo. Non così in fretta almeno, cioè, mi aspettavo che magari prima o poi, sai, però, minchia, un anno. Un anno e qualche mese. Sono davvero contentissimo. Però adesso basta con le smancerie. Perché so che siete qui tutti per cagarvi addosso. E probabilmente io sarò quello che si spaventerà più di tutti. Perché l'uomo col cappello, ragazzi, è forse l'unica cosa che mi fa davvero paura. Cioè, l'unica entità per normale, in qualunque modo vogliate chiamarla, è davvero l'unica. Mi sentirò a presenza e dietro le spalle almeno una decina di volte durante questo video. Ma va bene lo stesso. Mettetevi comodi, stringete un cuscino. E cominciamo. Qualche anno fa, mi sono imbattuto per la prima volta in queste immagini. Ero curioso. Questa strana figura mi affascinava. Così come faccio di solito, ho iniziato a guardare video, leggere articoli e cercare documentari. E voi non avete idea di quante informazioni ho trovato. Pensavo fosse semplicemente la classica foto di un'entità paranormale. Ma no. L'Hatman è diverso. È totalmente diverso. All'epoca avevo una pagina Instagram chiamata Solo Horror, ma non facevo ancora video su YouTube. E dato che su internet avevo letto che centinaia di migliaia di persone, sono serio, dicono di aver visto l'Hatman, ho pensato di chiedere direttamente ai miei follower. E la loro risposta è stata sbalorditiva. Sono riuscito a recuperare solo tre screenshot, ma ve lo giuro ragazzi, mi hanno scritto in centinaia. Centinaia di persone italiane mi hanno raccontato quando, come e dove l'hanno visto. E le loro esperienze erano tutte spaventosamente simili. Una strana ombra nera, con un cappello e un lungo cappotto, era ferma in un angolo. A fissarli. Tra i pochi screenshot che mi sono rimasti, uno mi ha colpito in particolare. Sentite cosa mi ha scritto. Era alto, ben strutturato. Non riuscivo a vedergli il viso, ad eccezione degli occhi agghiaccianti. Era vestito bene e faceva paura anche se non diceva niente. Non lo vedo più ora. E pensavo di vederlo solo io. Non pensavo che anche altri potessero vederlo. E invece, solo tra i miei follower, le testimonianze sono state davvero centinaia. Io a quel punto ero abbastanza inquietato e mi sono chiesto. Com'è possibile che così tante persone diverse dicono di aver visto la stessa identica figura? Cioè, erano persone che non centravano niente l'una con l'altra. E sicuramente nemmeno si conoscevano o avevano mai parlato. Quindi come facevano a descrivere la stessa identica cosa e la stessa identica figura? Tra l'altro, le loro esperienze erano praticamente identiche a quelle che avevo letto su internet nei siti americani. Quindi davvero, erano persone di tutte le età e di provenienza diversa. Non poteva essere solo una coincidenza. C'erano troppe esperienze simili. Era tutto davvero molto strano. E io iniziavo seriamente ad avere paura. Quindi per cagarmi addosso definitivamente e completamente, ho deciso di fare la cosa che vi ho chiesto io di fare all'inizio del video. Ovvero, ho chiesto a parenti e amici se avessero mai visto questa figura. E ragazzi, le risposte mi hanno spiazzato. Ma le faccio raccontare direttamente a loro. Sono qui con mia zia che è la prima persona a cui ho raccontato dell'Hatman. Perché sapevo che lei in passato aveva già avuto varie esperienze paranormali. Per cui subito, la prima persona a cui ho pensato, quando sono venuto a sapere dell'esistenza dell'uomo col cappello. O comunque delle esperienze della gente che l'hanno visto. È stato chiedere a lei che adesso, oggi, vi racconterà la stessa esperienza che ha raccontato a me la prima volta che gliel'ho chiesta. Ciao, sono Milena, la zia di Andrea. E niente, la mia esperienza risale a quando avevo 12 anni. Vivevo a Genova, in una casa vecchiotta. E niente, una notte ero nella mia stanza. A un certo punto ero sveglia, sono sicura. E ricordo che improvvisamente ho visto una figura altissima sull'uscio. Altissima, vestita di nero. Io ricordo un mantello nero ed un cappello. Un po' calato sugli occhi, però ricordo di aver visto anche questi due occhi rossi. Io ho questo ricordo. Ovviamente ho urlato, è arrivata mia mamma, cioè tua nonna. E da quella notte mi ha fatto dormire con lei. Però ci ha messo il lettino ai piedi del letto. E qualche giorno dopo, non ricordo esattamente quanto tempo dopo. Comunque, un po' di tempo dopo è successo che, mentre io dormivo, mia mamma ha urlato, io mi sono svegliata di colpo. E come mi sono svegliata ho rivisto quella figura sulla porta della camera da letto. L'aveva vista anche mia mamma. E quindi, cioè, non ero solo io ad averla vista, ma l'aveva vista anche lei. E niente, da allora non ricordo altre esperienze. Però l'uomo col cappello non l'ho più visto. Ho visto altre figure, ma non proprio l'uomo col cappello. E questa è la mia esperienza. Ok, questo è quello che mi ha raccontato appena le ho parlato di questa figura. Quindi capite che mi sono davvero spaventato. Perché pensavo fosse l'ennesima figura sul web di cui tutti parlano. Però è che in realtà... No, no. Posso garantire che è vera. È vera. E la cosa che mi ha colpito di più è proprio il fatto che la sua esperienza è praticamente identica a tutte quelle che ci sono online. Lei, se avete sentito, ha detto di aver visto anche gli occhi rossi di questa figura. E su internet molte persone dicono di non avergli visto la faccia. Ma tante altre dicono invece di avergli visto gli occhi o rossi o bianchi. Io li ho visti rossi. Anche mamma. Non so se questa cosa voglia dire qualcosa in particolare. Però, dato che l'Hotman, poi ci arriveremo, è una figura negativa, magari il colore rosso rimanda a qualcosa di negativo che sta succedendo, non lo so. O comunque magari si sta, come dicono in tanti, nutrendo della vostra paura che essendo una cosa negativa è rappresentata dal colore rosso. Non lo so, sono mie ipotesi. Io te lo giuro, l'ho visto benissimo, lo ricordo ancora, anche se sono passati tanti anni, però ti rimane impresso. Cioè, a me è rimasto impresso. Ho impresso proprio questa visione, gli occhi rossi, con il cappello calato, un po' sugli occhi, però si vedevano. E tutto il resto nero, tutto nero. Allora, adesso non mi ricordo se fosse un impermeabile o un mantello. Era più un mantello, però non te lo so spiegare. Magari un cappotto. Magari un cappotto. Comunque sì, una cosa molto lunga, molto lunga e nera. Sì, 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 sì. Ma non l'ho visto neanche muoversi. Ce l'ho visto fermo, fermo sulla porta. Altissimo, altissimo. C'è molto... una figura enorme. Però che non si muoveva. Così, che mi guardava. Basta. Però, capisci, non ha fatto niente. E in più, come è orlato, è sparito. Cioè, non mi ha fatto niente. Tanta paura. Quindi magari sì, si nutre proprio della paura o... non lo so. Tra l'altro, cos'è interessante di questo uomo col cappello? Sempre molte persone su internet dicono che appena lo vedi, anche se magari non hai paura generalmente di queste cose, appena lo vedi, lui ti incute proprio il terrore. Cioè, te lo fa proprio provare dall'interno, come se te lo tirasse fuori. Per una paura di un pericolo fortissimo, imminente, che non puoi contrastare, contro cui non puoi combattere. È stato così anche per te? Sì, 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 certo. Mi interessa più che altro sapere se qualcuno, oltre ad averlo visto, l'ha magari visto... cioè, fermo, se l'ha visto in movimento, fare qualcosa. Oltre ad averlo visto, e basta. Quindi fateci sapere nei commenti, non leggeremo tutto. Nel caso in cui lei non li veda, glieli faccio leggere tutti quanti io. Quindi, se volete dirle qualcosa, scrivete sotto. E niente, grazie zia. Di niente, ci mancherebbe. Ciao, ciao. A questo punto io, ragazzi, ero a dir poco scioccato. La primissima persona a cui ho chiesto mi ha risposto raccontandomi queste cose. Come facevano a spaventarmi? A questo punto era davvero impossibile che fosse solo una coincidenza. Cioè, anche lei, senza sapere nulla di questa entità, senza sapere neanche come si chiamasse, ha avuto un'esperienza molto simile alle altre centinaia che avevo letto. Pensavo di essere quasi impazzito, anche perché io non credo al paranormale, in teoria. Ma tutta questa faccenda mi ha quasi fatto cambiare idea. Infatti, giusto per scrupolo, ho deciso di chiedere la stessa cosa anche ai miei genitori. E ancora una volta, sono rimasto sconvolto. Adesso sono qui con mia madre, che anche lei ha avuto un'esperienza molto simile, anzi direi identica, praticamente, a tutte quelle che ho letto sul web e che mi hanno raccontato. Adesso, anche lei, vi racconterà quello che ha visto, cosa è successo e cosa ha visto nel dettaglio. Questa dell'Atman è successa anche a me. Mi ricordo che abitavo in una casa nel centro storico del mio paese, in una casa molto grande, con delle stanze enormi. E una mattina ero nella camera, vicino al mio letto, avevo avuto circa sei anni. Nella porta d'ingresso della camera ho visto questa figura, vestita di nero, con un vestito elegante, un abito praticamente, con un cappello sulla testa. Il cappello leggermente inclinato in avanti, il viso non si vedeva, il viso scuro. Non ho visto né occhi, né bocca, né naso, proprio niente, proprio scuro. E io mi sono spaventata tantissimo. Ho visto quest'uomo, che era lì nell'ingresso della camera, che guardava verso di me. Guardava, tra virgolette, perché non vedevo gli occhi, però... Quindi, nonostante non gli vedessi gli occhi, tu eri sicura che stava guardando te? Sì, sì, sicura, perché io ero in fondo alla stanza e vedevo che guardava verso la mia direzione. Era proprio girato verso la mia direzione. E' rimasto lì fermo, nella porta. Io, a un certo punto, ho iniziato a urlare. Gli ho chiamato mia mamma, che era in un'altra stanza. L'è arrivata subito e mi ha chiesto cosa era successo, ha pensato che fossi caduta, che mi ero fatta male, insomma. E quindi gli ho raccontato subito cosa avevo visto. E lei mi ha detto, no, ma no, sei tranquilla, non c'è nessuno. Ci siamo solo io e te a casa. E la mia sorellina, che era nata da poco, che era lì nella culla, che dormiva. Allora lei mi ha detto, ma dai, sicuramente quello che hai visto era il tuo nonno, mio nonno che io non ho mai conosciuto, che è morto quando mia mamma era piccola. E tu sicuramente è venuto a visitare la tua sorellina. E quindi un po' mi ha tranquillizzato, però ogni giorno avevo il timore di rivederlo, ecco. E con il passare degli anni ho sentito altre persone che hanno visto questa figura, sempre vestita di nero, con il cappello, che li fissava. Però stando sempre immobile, stando sempre immobile. E poi all'improvviso spariva. Non so a voi, ma a me queste esperienze mi hanno veramente fatto paura, specialmente perché sono persone che conosco molto bene, della mia famiglia. Ma la cosa che mi ha incuriosito di più è proprio il fatto di quanto queste esperienze siano simili a tutto quello che hanno vissuto tantissime persone in tutto il mondo. Persone che veramente non hanno niente in comune tra di loro, di età diverse, sesso diverso, etnia, qualsiasi cosa. Questa cosa è veramente molto strana. E poi tra l'altro mi piace un sacco ascoltare le esperienze che hanno i miei familiari, perché nella mia famiglia, sia dalla parte di mia madre che dalla parte di mio padre, ci sono un sacco di persone che hanno avuto esperienze paranormali e che me le hanno raccontate anche da quando sono piccolo. Per esempio mia nonno ogni tanto mi raccontava qualcosa, una sua sorella mi raccontava qualcosa. Quindi forse anche un po' per quello che a me piacciono così tanto queste storie. Mi piaceva proprio la sera, dopo cena, essere lì a raccontarci tutte queste cose inquietanti. E quindi queste erano le loro due esperienze, vi lascio al video. Ora capite perché mi fa così tanta paura l'Hatman. Queste persone non avevano motivo di mentirmi, ma poi non conoscevano l'uomo col cappello. Sono stato io a spiegargli cos'era dopo che mi hanno raccontato queste cose. Quindi veramente per me è stata una situazione abbastanza surreale. Non potevo crederci e vi giuro ragazzi non sto scherzando, ma in quei giorni non riuscivo a pensare ad altro. E più ci pensavo, più avevo paura. Era circa il periodo del primo lockdown, quindi più o meno marzo 2020. E di notte in casa avevo una paura fottuta di vedere l'Hatman. Cioè ricordo benissimo quel periodo, ricordo benissimo quanto fossi spaventato. Ma la mia paura ancora non aveva raggiunto l'apice. Perché ho cominciato ad informarmi sempre di più chiaramente, volevo vederci chiaro su questa cosa, non è normale. E ho scoperto che l'Hatman ci fa visita quando siamo particolarmente stressati o durante un periodo di transizione. Il lockdown quindi era il periodo perfetto. Ma la cosa che davvero mi ha fatto gelare il sangue è stato leggere che più ci si informa riguardo all'Hatman e più c'è la possibilità di vederlo. E io avevo passato le settimane precedenti ad informarmi e a pensare solo a quello. Appena ho letto questa cosa ragazzi ho davvero iniziato a preoccuparmi. Nel senso, se ti ossessioni di questa entità e sai che più ti informi e più c'è la possibilità di vederla, probabilmente in qualche modo il tuo cervello farà in modo di fartela vedere, prima o poi. Magari te la farà vedere solo di sfuggita, magari in lontananza, ma ricordiamo ragazzi che la suggestione fa miracoli. E in quel periodo io ero molto suggestionato. Anzi direi addirittura che l'uomo col cappello si stava facendo sempre più spazio nella mia mente come se fosse un virus. Ma nonostante tutto io non l'ho visto. Quindi ora basta parlare di cosa è successo a me. È arrivato il momento di spiegarvi che cos'è sto benedetto Hatman. E perché, secondo articoli e documentari, centinaia di migliaia di persone l'hanno visto. Innanzitutto dovete sapere che negli ultimi anni, esperti di paranormale e parapsicologia hanno iniziato a studiare un fenomeno molto più ampio dell'Hatman. Ovvero le shadow people, o persone ombra. E l'uomo col cappello non sarebbe altro che una di queste figure. Secondo alcuni, la più negativa. Le persone ombra, anche note come figure ombra o masse nere, sono sostanzialmente ombre molto scure che noi esseri umani percepiamo come umanoidi. Cioè ci sembra proprio che siano persone totalmente composte di ombra. Gli scettici credono che siano semplicemente una sorta di errore nella nostra percezione. Mentre i credenti del paranormale le ricollegano alla presenza di uno spirito o di altre entità come i djinn. Secondo me è possibile che sia un errore della nostra percezione, ma solo in alcuni casi particolari. Perché come già vi ho detto, è pieno di testimonianze di persone che le hanno viste quando erano totalmente sveglie e vigili. E magari anche di giorno, quando i giochi di luce sono molto meno frequenti. Quindi lasciamo stare per un attimo lo scetticismo e concentriamoci su ciò che dicono gli esperti. I loro studi sono stati effettuati analizzando varie testimonianze, foto, video e anche libri di testo. E ciò che ne è venuto fuori è a dir poco interessante. Vi devo dire però che si tratta di teorie, quindi niente di provato scientificamente. Ma comunque inizierei elencandovi le varie forme che le persone dicono di aver visto. Ci sono prima di tutto le figure benigne, che sono anche le più facili da spiegare razionalmente. Il più delle volte si tratta di una lieve ombra, di una sorta di contorno con una forma umana. Ma di base compaiono nella visione periferica, la classica ombra che si può vedere con la coda dell'occhio. Quindi è difficile dire se si tratti effettivamente di un'entità o solo di un gioco di luci. Quando invece queste ombre benigne vengono viste frontalmente, di solito si spostano da un'estremità all'altra della stanza, senza però prestare attenzione a chi le vede. Cioè non ti guardano e non ti vengono incontro, sembra che neanche sappiano che sei lì. Inoltre questo primo tipo di shadow people non porta con sé sentimenti o sensazioni particolari. Non fa emergere nulla nelle persone che lo vedono. Mi stanno venendo i brividi, va a f***o un culo a parlare di queste cose. Perché? Io perché mi metto a parlare di queste cose da solo in casa al buio, cazzo? Sono un cagasotto ragazzi, questa cosa la dovete sapere di me, sono davvero un cagasotto. Scusate se ho interrotto l'atmosfera ma mi sono venuti i brividi pesanti. Vabbè, dicevo che le persone che le vedono non hanno sensazioni particolari, non fa emergere nulla la vista di queste figure. Ma arriviamo adesso al secondo tipo, ovvero le ombre negative. Queste tendono a nascondersi negli angoli, dietro le porte o in qualsiasi luogo in penombra. A differenza di quelle benigne, le ombre del secondo tipo di shadow people portano con sé una sensazione di puro terrore. Si tratta di una paura inspiegabile che cresce senza controllo nella persona che le vede. Si chiamano maligne solo per questo, cioè perché trasmettono sensazioni estremamente negative. E fanno anche avvertire un presentimento di pericolo imminente. Ma arriviamo adesso alle shadow people del terzo tipo, le red-eyed shadows, ovvero le ombre dagli occhi rossi. Queste sono molto simili alle ombre maligne. Tuttavia, i testimoni hanno dichiarato che hanno degli occhi, o comunque delle luci di colore rosso, al centro del viso. O ciò che dovrebbe essere il viso, che chiaramente è totalmente nero. La visione delle ombre dagli occhi rossi è accompagnata da sentimenti di paura e terrore. Ma la maggior parte dei testimoni oculari riferiscono di aver avvertito la sensazione che l'entità si stesse effettivamente nutrendo della loro paura in qualche modo. E ora quindi passiamo alle hooded figures, le figure incappucciate. Queste sono avvistate più di frequente rispetto alle altre e non sono per niente entità positive. Le figure incappucciate sono spesso descritte come simili alla sagoma di un monaco medievale e infatti sembra che abbiano un mantello con un cappuccio. Inoltre portano con loro sentimenti molto negativi, ma secondo i testimoni, a differenza dalle altre figure ombra, è proprio la stessa entità ad emanare terrore e sensazioni negativi. Quindi non è che la prova ha solo il malcapitato che vede quest'ombra, ma è proprio l'ombra stessa ad emanarle. Cioè non so se mi sono spiegato, le altre te le suscitano queste sensazioni, cioè le senti dentro di te, invece questa le emana, proprio queste sensazioni escono dall'entità. Ma comunque oltre a questo, molti descrivono queste figure come portatrici di una rabbia sconfinata, che però si limitano ad osservare gli esseri umani. E ora infine passiamo ad un altro tipo di entità. Ancora oggi il dibattito è aperto perché non siamo sicuri se sia un'entità singola o un gruppo di entità maligne, ma fatto sta che si tratta di un fenomeno terrificante. L'ultimo della categoria delle shadow figures. Sto parlando dell'Hatman. Lui lo conoscete già e sapete bene o male le sue caratteristiche. A differenza delle altre shadow people, solitamente sta lì, fermo, a fissare il malcapitato e provoca una sensazione di assoluto terrore. Non esiste una spiegazione assoluta e verificabile su cosa sia l'uomo col cappello, ma esistono varie teorie sulle persone ombra. E dato che l'Hatman ne fa parte, possiamo attribuire queste teorie anche a lui. Per cominciare c'è chi crede che si tratti semplicemente di fantasmi. Eppure le shadow people sembrano comportarsi, tra virgolette, in modo completamente diverso rispetto ad altri fenomeni paranormali. Orbs, ectoplasmi e fenomeni simili si vedono raramente intorno a questa entità ombra. Ma nonostante queste differenze, sembra che si palesino a persone che già hanno avuto anche altre esperienze paranormali, o che comunque ne avranno altre in futuro. Sembra che queste entità, in generale, vengano viste da sole e agiscano da sole, tranne l'Hatman, che a volte pare non sia da solo. Alcuni testimoni affermano di aver avuto come la sensazione che anche altre entità meno potenti fossero con lui. Quindi ecco, diciamo che si comportano in maniera molto diversa dal classico fantasma. Ma nonostante questo, c'è chi crede che siano spiriti umani persi su questo piano della realtà. Queste persone dicono anche che gli uomini ombra non hanno lo stesso aspetto degli altri spiriti perché non hanno ancora accettato il loro stato d'essere. E quindi questa mancata accettazione o comprensione li lascia con un'assenza di luce. E noi, di conseguenza, li vediamo come ombre. Questa teoria suggerisce che i fantasmi ombra siano intrappolati, che non possono andare avanti. Quindi, sebbene possano sentirsi tristi e appesantiti, non sono per forza spiriti malvagi o demoniaci. Ma secondo la mia modesta opinione, non può trattarsi semplicemente di spiriti. L'Hatman, specialmente, se esiste davvero, non è mai stato un essere umano. Perché incute un terrore che nessun essere umano può provocare semplicemente guardandoti. Quindi arriviamo ad un'altra teoria, quella che vede le figure ombra come entità di natura demoniaca. Molte persone credono siano demoni semplicemente a causa delle sensazioni oscure che provocano. Le persone che hanno avuto esperienze con le shadow people sono sicure al 100% che quelle presenze non sono mai state umane. È qualcosa di difficile da spiegare, ma come vi ho detto prima, non è possibile che un essere una volta umano incuta queste sensazioni così tanto oscure. Quella delle figure demoniache però è un'interpretazione per lo più religiosa. Passiamo quindi alla teoria più accreditata, che si basa su concetti a noi però incomprensibili. E che quindi dà un senso anche a queste figure altrettanto incomprensibili. Questa teoria ipotizza che le shadow people siano esseri interdimensionali. Mi spiego. Molte persone credono che gli alieni siano già qui sulla Terra e si stiano semplicemente camuffando. Altri invece credono che gli alieni siano sì sulla Terra, ma che si trovino in una dimensione diversa. Per cui queste ombre non sarebbero altro che la manifestazione di questi esseri, che per qualche motivo scivolano tra la loro dimensione e la nostra. In sostanza quindi sarebbero alieni che vivono in un'altra dimensione, in un'altra realtà, e che riescono a dare un'occhiata alla nostra dimensione. E sono molto interessati a noi, quindi si limitano ad osservarci, perché non possono interagire in modo fisico. Difficile da immaginare, infatti non è l'unico sviluppo di questa teoria, perché per esseri interdimensionali si intendono anche altre cose. Per esempio, secondo alcuni, queste ombre non sarebbero altro che esseri astrali o viaggiatori del tempo che si muovono attraverso le varie dimensioni. Il modo in cui si muovono tra le dimensioni non ci è chiaro, e ovviamente non abbiamo una spiegazione ad un eventuale fenomeno del genere. Tuttavia alcuni credono che il terrore percepito alla vista delle shadow figures sia da ricollegarsi al semplice viaggio tra le dimensioni. In pratica questa connessione tra due realtà susciterebbe paura e pericolo imminente agli esseri umani. Quindi non sarebbero le figure stesse a portare sentimenti o sensazioni negative, ma il collegamento tra le dimensioni. Lo so, sembra un po' fantascienza, e infatti, come vi ho già detto, si tratta solo di teorie. Sono ipotesi formulate per spiegare un fenomeno di per sé incomprensibile. Proprio per questo non sappiamo con sicurezza cosa siano le figure ombra. In effetti potrebbero essere uno o tutti i fenomeni che vi ho appena spiegato. Potrebbero essere fantasmi o spiriti, viaggiatori astrali, viaggiatori del tempo, alieni, oppure qualcos'altro ancora. Ma secondo la scienza, non è niente di tutto questo. Ci sono molte condizioni, sia fisiche che psicologiche, che potrebbero portare alla visione dell'Atman. Per cui la scienza crede che le testimonianze delle persone non siano bufale, ma neanche vere esperienze paranormali. Piuttosto si pensa che siano allucinazioni o delusioni. E questi fenomeni possono avere svariate cause. Prima tra tutte, lo stato ipnagogico. Questo è uno stato di semicoscienza, in cui una persona può pensare lucidamente ed essere cosciente, tuttavia può anche percepire immagini che in realtà sta solo sognando. Questo stato è spesso usato per spiegare le esperienze paranormali, perché in effetti può farci vivere nitidamente sogni e allucinazioni nella realtà. Ed è anche lo stato in cui ci si trova durante una paralisi del sonno che ormai dovreste conoscere. Questa spiegazione però non è abbastanza, e infatti la scienza ha provveduto a fornirne anche altre. Una di quelle più accreditate ha a che fare con l'irregolarità del campo elettromagnetico. In sostanza, gli scienziati hanno osservato che, nelle giuste condizioni, l'irregolarità del campo elettromagnetico può interferire con gli impulsi elettrici del cervello o attivare le sinapsi. Una lunga esposizione a queste irregolarità può portare a vedere cose che non ci sono. Infatti, sono stati registrati casi in cui le persone esposte a campi elettromagnetici irregolari hanno detto di aver visto alieni, fantasmi o persone ombra. Le condizioni ideali per un fenomeno di questo tipo si possono verificare in centrali elettriche, in aree con forti campi magnetici presenti in natura o in vecchi edifici, con un cablaggio scadente. Un'altra spiegazione un po' più semplice sono le allucinazioni indotte dalle droghe. Molti consumatori abituali di eroina, per esempio, hanno dichiarato di aver visto figure simili alle shadow people. Tuttavia, molti testimoni non fanno uso di stupefacenti, per cui non possiamo considerare l'uso di droghe come una vera risoluzione del fenomeno. Piuttosto, suggeriscono in molti, la vista dell'uomo col cappello e delle shadow people potrebbe essere frutto della pareidolia, ovvero la capacità del nostro cervello di percepire forme, volti o in generale caratteristiche umane, anche se sottoposto a stimoli casuali. Per capire facilmente questo fenomeno, basta pensare alle nuvole. Le nuvole non prendono forme specifiche, si muovono in base a vari fattori ambientali, e le forme che assumono non seguono uno schema. Si può dire che siano casuali, eppure, guardandole, riusciamo a riconoscere volti, animali o oggetti. E non perché hanno effettivamente preso queste forme, ma perché entra in gioco la pareidolia. In modo analogo, in una stanza buia, con oggetti e caratteristiche disposti in modo casuale, in alcune condizioni possiamo riconoscere delle forme umanoidi. Ma anche considerando tutte queste spiegazioni scientifiche, rimane un dubbio. Perché così tante persone hanno visto la stessa figura? Perché è proprio l'uomo col cappello? Questa è l'unica domanda a cui anche la scienza non riesce a rispondere. O almeno non in modo definitivo. Ma devo dirvi che ci sono teorie anche su questo. Come per molti fenomeni paranormali, è difficile identificare una fonte definitiva o una storia originale su cui si basa l'Atman. Ma è possibile che l'intero concetto di uomo col cappello sia stato influenzato o alimentato da film, libri o altre forme di media. Per cui sarebbe per questo che così tante persone in tutto il mondo hanno dichiarato di aver visto la stessa figura. Basta pensare a personaggi come l'uomo nero in The Dark Tower di Stephen King oppure semplicemente a Zorro. Ecco, il nostro subconscio assorbe ogni cosa che vediamo e percepiamo e la tiene nascosta lì, nel profondo della nostra mente. Quindi è possibile che alcuni personaggi di libri, film e così via ci abbiano messo in testa una figura simile all'Atman. E quando siamo spaventati, soli o stressati, nelle giuste condizioni, migliaia di fattori si incrociano e ci permettono di vedere un'ombra nera con un cappello, ferma, che ci fissa. Alcune teorie interpretano l'Atman come un'incarnazione di un archetipo collettivo. C'è un modello simbolico che è presente nell'incoscio collettivo di diverse culture. Questi archetipi possono emergere nei sogni o nelle esperienze reali di molte persone e assumere forme simili all'Atman. Tuttavia, è importante dire che queste sono solo ipotesi e interpretazioni. La realtà è che non ci sono prove concrete sulle origini esatte dell'Atman e nemmeno su cosa sia davvero. Come molti fenomeni paranormali, le spiegazioni possono variare da persona a persona a seconda delle credenze personali, della storia personale e dell'ambiente culturale. Quindi mi dispiace. Se hai visto l'uomo col cappello, non posso darti una spiegazione al 100% razionale e al momento non te la può dare nessuno. Sta a te decidere a cosa credere. Si tratta di un'entità effettivamente paranormale oppure le teorie scientifiche possono essere una risposta. La cosa che posso dirti è che se vedi l'uomo col cappello, non devi preoccuparti. Non ti farà del male. Anzi, in molti casi, è solo un gioco di luci. Ma se hai la certezza che sia lì, immobile a fissarti e un senso di terrore ti pervade, cerca di non andare nel panico. Respira, chiudi gli occhi, poi riaprili e probabilmente non sarà più lì. Se invece è ancora lì, cerca di accendere una luce. In ogni caso non ti farà del male. Se infine ti svegli nel cuore della notte in preda al terrore e lo vedi, ma non riesci a muoverti, probabilmente stai solo avendo una paralisi del sonno, che per quanto spaventosa è davvero innocua. Se riesci, prova a concentrarti nel muovere le mani o i mignoli. In questo modo riuscirai ad uscire presto dalla paralisi. Ecco, questo è tutto ciò che sapevo sull'Atman. Fatemi sapere se lo avete mai visto. Stavolta sono davvero curioso di leggere tutto quello che scrivete, quindi ci sentiamo qui sotto nei commenti. Prima di lasciarci, però, volevo ancora una volta dirvi grazie. Perché questo canale davvero mi ha cambiato la vita. Siamo centomila persone anche qui. Ed è semplicemente assurdo, quindi grazie davvero con tutto il cuore. Per me questo canale è speciale e voi siete speciali perché mi avete dato il supporto e la forza per fare sempre meglio. Detto questo vi saluto e vi do appuntamento a questo venerdì, con un altro file. Ciao! E davvero, non abbiate paura se vedete l'Atman. La cosa peggiore che può succedere è provare un terrore schiacciante, che non avete mai provato prima. Una sensazione di impotenza, angoscia e panico, che ricorderete per il resto della vostra vita. Buonanotte.